buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 29 settembre 2023 siamo quasi alla fine della settimana abbiamo diverse notizie che riguardano poi anche tante manifestazioni che correderanno il weekend in diverse località del nostro territorio ma come sempre procediamo sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi si festeggiano tre angeli anzi diciamo meglio tre arcangeli i santi michele gabriele raffaele sono appunto gli arcangeli appartengono ad altissime gerarchie angeliche che secondo quando narra la bibbia hanno svolto compiti molto molto importanti gabriele ad esempio fu l'angelo dell'annunciazione raffaele e l'angelo che accompagnò tobiolo michele il guerriero contro il demonio e come non menzionare il filo diretto che unisce i santuari a proposito di michele i santuari europei di san michele al gargano della sagra di san michele in piemonte e san michel in francia un filo diretto quasi una linea retta appunto che unisce questi santuari sono punti di culto veramente molto molto importanti ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata su tutta la regione i venti saranno al mattino tesi da ovest nord ovest al pomeriggio moderati e proverranno da nord ovest il mare poco mosso la temperatura 18 la minima 25 la massima ed ora passiamo alle notizie del giorno sfogliando il corriere il resto del carlino sulla pagina di fano ed ecco l'articolo di apertura la presenza di don ciotti nell'ambito della settimana europea africana organizzata dall'africa chiama un incontro molto molto affollato che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala del gonfalone una sala che si è riempita fino all'inverosimile del resto don ciotti è un personaggio che richiama gente richiama per il suo modo di parlare di tanti tanti problemi per la forza emotiva che scaturisce da questo sacerdote e dagli argomenti che egli pone di riflessione di fronte al pubblico migranti aiutiamoli a restare nel loro paese è il titolo che il carlino trae un po dalle tante tante dichiarazioni che ha fatto don ciotti di fronte al pubblico pubblico in cui in prima fila c'era sindaco di fano c'erano gli assessori mascarine e tinti c'era il vescovo emerito don giovanni tonucci c'erano diverse e diverse personalità ma soprattutto c'erano i volontari della l'africa chiama che hanno organizzato questa grande bella iniziativa tant'è che il sacerdote è stato presentato dalla presidente anita manti così don ciotti ospite dell'africa chiama serve un impegno mondiale e una cooperazione forte altrimenti saranno costretti a fuggire ma in realtà l'intervento di don ciotti è stato rivolto all'accoglienza dobbiamo accogliere ha detto don ciotti queste persone che fungono dalla miseria che cercano un futuro migliore che sperano appunto di trovare uno scopo nella loro vita che in questo momento è molto molto degradata è molto così sì che si confronta molto con tanti tanti problemi la siccità la fame le malattie l'oppressione politica insomma sono diverse le cause che impongono queste persone a lasciare il loro paese che se fosse un paese accogliente certo non lascerebbero aiutare a partire chi fugge dai conflitti dalla fame dalla violenza dalla dittatura ma quanto è possibile e quanto ci sono le condizioni li dobbiamo aiutare a rimanere nel loro paese sarebbe questo l'obiettivo ideale ma in realtà questi paesi vengono sfruttati sono molto ricchi di beni di primo ordine di beni materiali ma in realtà poi vengono sfruttate da altre organizzazioni da altri paesi veniamo alle altre notizie parliamo di sicurezza perché sul arresto del calino abbiamo una dichiarazione del sindaco che annuncia provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale per cercare di reprimere certi episodi di violenza che sono un po verificati in diverse parti della città vediamo il titolo sicurezza se ritenta il colpo di coda spy cam e luci per stanare i balordi viene così incrementato tutto il sistema tutta la rete di video sorveglianza vengono sistemate nuove telecamere soprattutto nei quartieri come il poderino dove si sono verificati episodi di diciamo così di degrado episodi di vandalismo e anche furti come appunto il poderino nuove telecamere nei punti caldi della città e questo uno dei provvedimenti individuati dalla giunta seri per combattere la crescente piaga delle baby gang e quando parliamo di baby gang non parliamo di ragazzini di 7 8 9 anni ma sono ragazze di 15 16 17 anni insomma sono molto molto vicini all'età matura all'età di 18 anni e sono ragazzi che insomma sono fisicamente molto molto ben messi quindi sono anche pericolosi in caso di violenze non sono non è un caso raro che accadono risse aggressioni e via dicendo soprattutto è stato messo in evidenza questo problema nell'ultima seduta del consiglio comunale quando luca serfilippi ha parlato di quanto accade in piazza amiani ruba un monopattimo un monopattino inseguito e placcato è stato arrestato un 26enne già noto alle forze di polizia e per divincolarsi ha gettato a terra il proprietario del mezzo insomma anche un tipo molto molto violenzo ma c'è anche chi si organizza e qui vediamo una foto di un personaggio molto stimato e molto ben voluto da tutta Fano si tratta di Barrasso era il comandante e Antonino Barrasso era il comandante della sezione dei carabinieri di Fano che fa parte della compagnia che viene comandata da Maximiliano Papale ebbene Barrasso è il leader di un'associazione di volontari qualificati per accogliere e sostenere le vittime di violenza questa associazione sarà presentata oggi alle ore 17 nella sede della confraternita del suffraggio in via Martino da Fano per quanto riguarda quello che questi pensionati questi volontari intendono fare per contribuire all'azione delle forze dell'ordine insomma un presidio in più ovviamente un presidio del tutto legale del tutto improntato a temi etici a temi di moralità per cercare appunto di rendere la città di Fano più serena più tranquilla e poi parliamo di questa iniziativa che la fondazione Carifano ha presentato nella giornata di ieri non a Fano ma a Villanova si tratta del crowdfunding si tratta cioè di una raccolta di fondi che impegnano che impegna tutte le associazioni che aspirano a un contributo da parte della fondazione qual è il sistema non è più un'erogazione così sic et sempliciter a fondo perduto ma è una fondazione che fa scaturire un sistema virtuoso ovvero tua associazione cerchi dei soldi per conto tuo ne raccogli mille ebbene la fondazione te ne darà duemila ne raccogli cinquemila ebbene la fondazione te ne darà diecimila è un sistema che rende le associazioni più vive più attive nel territorio e allo stesso tempo raccolgono più fondi ebbene questa iniziativa che è giunta ormai al terzo anno con un aumento di risorse da parte della fondazione si era partiti con 50 mila euro il secondo anno si erano raggiunti 100 mila euro il terzo sono 150 mila euro che vengono appunto distribuiti a quelle associazioni i cui progetti sono stati approvati e appunto poi sono stati trovati dei fondi che verranno moltiplicati in tutto sono 19 progetti ieri a villanova ne sono stati presentati 14 si tratta di progetti che riguardano soprattutto la solidarietà nei confronti delle persone più fragili ma anche obiettivi che riguardano l'ambiente che riguardano la cultura insomma sono scopi di pubblico interesse che vengono perseguiti grazie a questa bella iniziativa della fondazione cari fan e ieri alle 11 al pincio di fano sempre è stata inaugurata fano fiorisce quattro giorni di esplosione di flagranze di colori di profumi che danno al pincio e al bastione del nuti un'immagine inconsueta un'immagine bellissima un tappeto di fiori multicolori che si spinge la porta maggiore verso l'arco di augusto e poi anche verso via delle rimembranze con il consueto taglio del nastro si è inaugurata ieri fano fiorisce la mostra mercato dei fiori ce ne sono veramente di tutti i tipi in modo particolare i ciclamini ma tante tante anche le essenze magari un pochino più preziosi ciclamini tre vasetti di ciclamini costano 10 euro insomma la cifra è molto molto compatibile ma ci sono anche delle piante esotiche delle piante nostrane che sono molto molto belle e costano qualche centesimo di più ed ora passiamo nell'entroterra passiamo a terre roveresche ebbene è arrivato un nuovo medico di base e quindi Orciano fa festa bene ma l'emergenza resta il dottor Tommaso Raichi subentra a Spadoni e Landi il comune dice territorio comunque rimane scoperto ce ne vorrebbero veramente tanti di più di questi medici di base che dovrebbero essere al servizio delle famiglie comunque questa è una buona notizia l'arrivo di un nuovo medico è di fondamentale importanza la notizia è stata commentata è stata data con un comunicato da parte del comune ma non possiamo tacere dice il comunicato che terre roveresche così come gran parte dei comuni dell'entroterra continua a vivere sui dottori di famiglia una situazione di emergenza solo da marzo a luglio da noi sono andati in quiescenza due medici di ruolo e oggi al loro posto abbiamo una figura full time ovvero Raichi e la presenza di alcune ore della dottoressa Mirella Macci e tutto ciò si somma al precedente pensionamento di un altro medico di ruolo quindi i rinforzi non sono ancora sufficienti a coprire tutte le esigenze dell'assistenza sanitaria parleremo poi dell'assistenza sanitaria perché ieri a pesaro si sono presentati l'assessore alle infrastrutture della regione Marche Francesco Baldelli insieme all'assessore alla sanità Filippo Salta Martini e hanno dato una importante annuncio poi ne riparleremo intanto passiamo ad urbino acqua tariffe quattro volte più care di altri sappiamo come nel nostro territorio le bollette dell'acqua siano particolarmente esose e da noi purtroppo il servizio idrico si paga molto di più rispetto ad altre località in altre regioni ebbene in questo caso l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Fano Michele Felici attacca il sistema di gestione del servizio idrico insomma innanzitutto ci sono grosse perdite e queste perdite ovviamente poi incidono anche sulle bollette dell'utenza e in più c'è queste tariffe che sono veramente esose per 150 metri di acqua passano dai 381 euro di Pisa ai 359 euro di Urbino agli 86 euro di Isernia dati del 2015 insomma Isernia veramente è quello dove l'acqua costa meno e per andare a bere un bicchiere bisognerebbe andare in Abruzzo beh però insomma la questione è molto controversa ed ora parliamo della guinza anche qui ci sono delle posizioni che lasciano un po' così riflettere ebbene in questo caso abbiamo un lettore del Carlino si tratta di Sauro Teudori ex tecnico dell'area scientifica della Università di Urbino quindi non è l'ultimo arrivato che dichiara che sarebbe importante che la guinza innanzitutto fosse terminata ma per farlo bisognerebbe sarebbe anche utile secondo lui istituire un pedaggio ai mezzi che la attraversano e beh insomma questa è la sua posizione che viene evidenziata con grande grande evidenza dal resto delle Carlino invece a Cagli si gira un cortometraggio sui femminicidi la truppe sta girando in questi giorni all'interno del centro storico un'iniziativa cinematografica per raccontare una tragedia sociale infatti secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno nei sei mesi scorsi da giugno, da gennaio a giugno sono stati registrati ben 129 omicidi di cui 45 riguardano le donne e di questi 45 37 sono state uccise in contesti familiari ovviamente mariti, compagni, liti in famiglia e poi il dramma, la vicenda, il femminicidio ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie di Pesaro dove appunto vi avevo parlato della sanità, vi avevo annunciato della sanità ed eccolo qui l'articolo che riguarda l'incontro che c'è stato ieri al quale sono intervenuti Baldelli e Saltamartini ebbene si è parlato finalmente dell'inizio dei lavori dell'ospedale di Muraglia ebbene un ospedale che è stato annunciato addirittura dal 1969 pensate quanti anni sono passati per realizzare quest'opera è un'opera importante, dovremmo dire forse la più importante che negli ultimi anni venga realizzata nelle Marche 200 milioni è l'investimento della Regione il bando sarà pubblicato nelle prossime ore hanno annunciato i due amministratori regionali sarà una gara da oltre 200 milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro una struttura che la seconda città delle Marche e tutta la sanità regionale aspettava veramente da tempo e che il nuovo governo regionale ha ripreso in mano mantenendo la promessa di avviare la realizzazione all'interno di questa legislatura così come aveva dichiarato il Presidente Acquaroli e poi c'è anche la notizia che il reparto materno infantile oggetto di tante contestazioni da parte di molte mamme nei giorni scorsi non verrà spostato rimarrà a Pesaro e non verrà privato di tutti i servizi che invece secondo Saltamartini verranno potenziati ma poi anche su questo argomento abbiamo il rovescio della medaglia perché poi vedremo come sul Corriere Adriatico c'è una presa di posizione del Sindaco di Fano Massimo Seri il quale lamenta una prospettiva annunciata dalla direttrice dell'azienda sanitaria territoriale Nadia Storti in merito alla privazione di un servizio a Fano Vandali fuori controllo, sfregiata la palla di pomodoro incisi disegni e scritte, troviamo i colpevoli ebbene l'opera simbolo della città di Pesaro è stata colpita dai gnoti che hanno così scalfito il bronzo con un punteruolo speriamo che basti la lucidatura e non serva un restauro più profondo appunto ha detto Roberto Malini dell'Associazione Pesaro Città d'Arte e Cultura ebbene colpire il simbolo di una città vuol dire infierire su tutta la città sui cittadini, sulle prospettive di sviluppo sulla cultura, sulla tradizione stessa di questa città e veramente questi vandali andrebbero perseguiti fino in fondo per la campagna a favore della ricerca contro il cancro al seno via San Francesco a Pesaro si colora di rosa via San Francesco è una via molto molto importante che collega Piazzale Matteotti a Piazza del Popolo il comune aderisce alla campagna Nastro Rosa per la ricerca appunto contro questa malattia una ricerca promossa dall'AIRC e dall'ANCI che hanno illuminato di colore, simbolo della giornata tutti i portici di San Francesco ed ora parliamo di un fatto molto molto antipatico raffica di furti al cimitero spariscono fiori, cornici c'è chi ruba gli oggetti di famiglia i parenti, le nostre tombe sono spogliate forzata la porta anche di un negozio Giancarla Giorgini una appunto delle frequentatrici del cimitero un dispiacere per le persone cerchiamo di aiutarle ebbene c'è chi ruba i fiori c'è chi ruba le cornici pensando che fossero di valore perché magari appaiono brillanti luccicanti d'argento oppure di similoro in realtà è un metallo vile è un metallo soltanto colorato però quello che fa dispiacere è l'atto che colpisce la memoria di una persona cara e quindi veramente c'è magari chi mette un'automobilina un piccolo ricordo del defunto e viene rubato anche quello pensate a quanto arriva l'egoismo di certe l'indifferenza di certe persone vediamo anche un'altra notizia sul resto del carlino per quanto riguarda la pagina di peso abbiamo parlato di cancro al seno una iniziativa che coglie la notizia di tutti in merito alla ricerca in questo articolo invece si parla di un diario il diario di Serenella Albonetti con la chemio il corpo parla grazie per avermi ascoltata con le pause si recupera e si cura meglio ciò che ho scritto viene dal signore un saluto ebbene il giornale pubblica l'ultima puntata del diario di Serenella Albonetti l'imprenditrice titolare di AS Sistemi di Sicurezza ed ex componente del Consiglio della Confcommercio che è deceduta nei giorni scorsi a causa di un mare incurabile ed ora passiamo al Corriere Adriatico ebbene abbiamo qui l'intervista al sindaco Massimo Seri per quanto riguarda la situazione dell'ospedale Santa Croce non bastano la carenza di personale e le lunghe liste di attesa per rendere precaria l'attività dell'ospedale Santa Croce ora sul nosocomio di Fano sta per abbattersi una grossa tegola che cosa sta accadendo? ebbene la direttrice generale dell'AST Nadia Storti in una riunione sindacale avrebbe detto che la Stroke Unit passerà sotto la neurologia e verrà spostata a San Salvatore di Pesaro la Stroke Unit è quel sistema quel macchinario che cura l'ictus ebbene se si riesce a raggiungere questo sistema entro pochi minuti l'ictus può essere risolto oppure provocare delle conseguenze risolvibili delle conseguenze minime ma se la Stroke Unit è lontana passa ancora più del tempo e quindi la situazione diventa più precaria privare di questo sistema l'ospedale di Fano vuol dire provocare un danno a 60.000 persone è stata una previdente iniziativa questa assunta dall'allora primario di medicina Gabriele Frausini ed ora sembra che questo macchinario venga tolto ebbene il sindaco si oppone faremo le barricate e poi se interviene sotto una serie di problemi in quanto dice va bene programmare l'autonomia del Santa Croce rispetto all'ospedale di Pesaro ma se poi il Santa Croce non si riempie di personale di strutture eccetera diventa una scatola vuota e quindi è inutile così programmare dei grandi edifici come la palazzina delle emergenze se poi non si riempiono di contenuti un altro articolo importante è quello dedicato a Don Ciotti migrazione aiutiamo i paesi africani cambiare questo sistema è possibile secondo il sacerdote sacerdote che ha parlato di molti temi ieri dalle spire tentacolari della mafia al dramma dell'immigrazione dalla situazione dei paesi più poveri del mondo ai disastri delle guerre molte dei quali ancora oggi non vengono ignorate e poi dallo sfruttamento dei beni del pianeta alle responsabilità della politica dall'azione umanitaria delle ONG all'educazione dei giovani e al compito della scuola un insieme di argomenti concatenati l'uno con l'altro che derivano soprattutto dal filo comune il fil rouge di un sentimento di accoglienza di benevolenza verso coloro che hanno bisogno l'altro articolo di apertura è quello che si riferisce al crowdfunding della fondazione Carifano di cui abbiamo già parlato dall'assistenza all'ambiente le forme di lotte alla povertà la fondazione Carifano finanzia 19 progetti incentivando i fondi raccolti online 150 mila euro che la fondazione mette a disposizione ed ora passiamo anche nell'entroterra siamo in conclusione vediamo che a San Lorenzo in campo vengono implementati gli impianti fotovoltaici una scommessa questa del sindaco dell'Onti una scommessa laurentina dopo la biblioteca e gli spogliatoi del campo sportivo ora il plesso scolastico e l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci e vi dà appuntamento